L'amore è l'infinita pazienza di cercare uno sconosciuto che pensavamo di conoscere fino in fondo. D'un tratto Maria e Giuseppe si accorgono di quanto Gesù sia estraneo a loro. L'evangelista Luca narra, dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse, figlio perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. A sottolineare come l'esperienza della perdita sia un'esperienza di morte, il Vangelo dice che Maria e Giuseppe cercano per tre lunghi giorni Gesù, esattamente come per tre giorni Gesù rimarrà chiuso nel sepolcro prima della risurrezione, in quell'esperienza profonda di vera morte. Così Maria e Giuseppe devono entrare in un'esperienza di morte, in una esperienza di perdita, prima di ritrovare Gesù. Lo ritrovano nel tempio, luogo che Gesù adulto definirà la casa del padre mio. Ed è proprio lì che emerge per la prima volta la profonda relazione che Gesù ha con il padre. Davanti alla domanda lecita, giusta e quasi risentita di Maria, perché ci hai fatto questo? Gesù risponde, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Il nome del padre è diventato il motivo per cui Gesù trova il coraggio di evadere dal posto che gli è stato assegnato. È proprio per amore del padre che Gesù trova il coraggio di fare qualcosa di diverso, di perdersi, di cercare, di interrogare, di domandare. Sono questi infatti i verbi che usa Luca per dirci la relazione che Gesù ha costruito con le persone che lo circondano. La consapevolezza del padre spinge Gesù a prendere in largo, a non essere più prevedibile, ad iniziare un'esperienza di libertà. Arriva un momento della nostra vita in cui non cerchiamo più semplicemente di essere protetti, ma abbiamo bisogno di qualcosa che ci spinga fuori, a largo, in avanti. Gesù sperimenta nella sua relazione con il padre un profondo senso di appartenenza, ma non solo. È proprio a partire da quel senso di appartenenza che trova anche un motivo per cui prendere in largo, per cui difendere la propria libertà, la propria identificazione. Gesù lascia la carovana non per un incontenibile bisogno di autosufficienza o di autonomia. Gesù lascia la carovana, come dice egli stesso spiegando alla madre, perché deve occuparsi delle cose del padre suo. Ora, sarebbe molto interessante riuscire a dire quali sono le cose del padre suo, quello che più avanti Gesù definirà come la volontà del padre. Qual è la volontà del padre? Qual è il desiderio del padre? Quali sono le cose del padre? Avendo davanti tutta la storia di Gesù, possiamo tentare di rispondere a questa domanda dicendo così. La volontà del padre è il figlio stesso. Il desiderio del padre è il desiderio del desiderio del figlio. Quello che può sembrare un gioco di parole, in realtà racchiude il nodo di tutta la questione. Se ciascuno di noi nasce con un desiderio, con una vocazione, con un motivo, con una unicità, essere amati significa incontrare qualcuno che ci metta in sintonia, che ci risintonizzi con la nostra vocazione, con il nostro desiderio, con il nostro motivo. La volontà del padre è che il figlio diventi pienamente figlio, che Gesù diventi pienamente il Cristo. La volontà del padre quindi non è il possesso del figlio, non è controllarlo, tenerlo in un posto sotto controllo. La volontà del padre al contrario è la libertà del figlio. Il padre vuole la libertà di Gesù, la libertà per cui egli può diventare pienamente se stesso. Perché solo e soltanto se Gesù diventerà pienamente se stesso, potrà diventare anche causa di salvezza per tutti gli altri. Se Gesù arriverà al punto di essere libero di scegliere ciò che gli è posto davanti come dovere, diventerà causa di salvezza per gli altri. Cerchiamo di portare questa nostra riflessione nel concreto della vita di ogni giorno. La nostra vita è fatta molto spesso di cose che non abbiamo scelto. Ad esempio, non abbiamo scelto la nostra storia passata, la nostra provenienza, non abbiamo scelto i nostri genitori. Molte cose della nostra vita che riguardano il passato non sono state scelte da noi, ma ci sono comunque. Allo stesso tempo, anche guardando il nostro presente, ci accorgiamo che molte cose non sono state scelte, eppure ci sono. Sono davanti a noi, ci provocano, ci interpellano, ci chiedono qualcosa proprio adesso. E anche il nostro futuro non è pienamente sotto la nostra libertà di scelta. Molte cose che accadranno lo faranno al di là delle nostre scelte e della nostra libertà. Quindi ci verrebbe da domandarci che significa essere liberi davanti a qualcosa che non si è scelto? La libertà è imparare a scegliere invece che subire anche le cose che non abbiamo preventivato, le cose che ci sono, le cose che esistono davanti a noi. È proprio grazie alla relazione con il Padre che Gesù arriva a questa vertiginosa libertà di scegliere ciò che gli è posto dinanzi. Così egli trasforma il dovere in libertà.